Io rilancio fino a 725, io rilancio fino a 2075, ho un giocatore sul Big Blend e lancio fino a 5.050 e stando entrambi in deep tech, decido di chiamare il suo rilancio forte del fatto che la posizione mi potrebbe far capire se è veramente una mano o no al flop al flop scende K10.6 di semi diversi e a quel punto lui cerca penso che anche se avessi cercato con una mano forte, il suo non è un check race ma bensì un check hole ho da una check, ho una mano a una open hand e dovessi farla potrei fare un gran piatto quindi decido di puntare 5.000 anche per non dare indizi sulla mia mano al mio avversario fargli sapere che posso ancora avere un trist ricordiamo che lui aveva l'asso-asso nel frattempo si aveva l'asso-asso, lui decide di chiamarmi e basta e al terno scende un asso quindi potete immaginare lei si dà la mano, comunque lui fa check ed io esco puntando 11.000 chips a quel punto lì dopo una lunga pensata mi lancia fino a 30.000 e io vado in olinna lui mi chiama, come giusto che sia, in questo corpo spirito e al river per fortuna non fa full il mio corpo reggio va da 140.000 chips molto bene Dario, quindi porti alto come al solito l'onore dell'Italia del poker tento di giustificare la mia chiamata per il fatto che fossi entrambi i deep tech la chiamata è la giusta a te non avevo fatto altre puntate, però non avessi chiuso la scala sono contento di questo gol ciao, grazie grazie